A Verona dobbiamo dare il massimo, troveremo un ambiente elettrico di una squadra affamata che sogna il surpasso ai nostri danni ma con concentrazione d'ordine tattico dovremo giocarci le nostre carte come vuole Mr. Zenga. Così il centrocampista del Crutone Andrea Barberis presenta l'importantissima sfida delle Bente Godi. La mattina abbiamo lavorato molto sulla tecnica individuale e anche su qualche situazione tattica di reparto. Serve molto perché dobbiamo migliorare in qualità come dice sempre il mister e lo sappiamo e quindi continuiamo a lavorare consapevoli che possiamo fare le nostre partite e i nostri risultati. Sicuramente è una sfida importante perché sono sotto di noi e dobbiamo cercare di mantenere le distanze e se possibile allungarle. Quindi è una sfida molto impegnativa, lo sappiamo, però andiamola con la testa giusta e cercheremo di fare risultato. No, troveremo sicuramente un Verona battagliere motivato perché anche per loro è uno scontro salvezza e quindi avranno anche loro le loro motivazioni. Noi dobbiamo avercene di più, dobbiamo mettere sul campo le nostre qualità e quindi cercheremo poi di portare a casa il risultato. Sì, sì, dobbiamo lavorare anche su questo aspetto della concentrazione perché in alcune situazioni di partita forse ci è mancato precedentemente, però sappiamo che è importante mantenerla per i 90 minuti per cercare di portare a casa il risultato. Sì, le prestazioni sono buone, però alla fine poi conta sempre il risultato, bisogna essere anche bravi e portare a casa il risultato. Sì, le prestazioni sono buone, però alla fine poi ci sono buone, però alla fine poi ci sono buone,